E' un'altra cosa. E' per la zampa? No, 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 la zampa è perfetta, no. La mia curiosità riguardava un altro argomento. Dimmi. Come pensi che un cane potrebbe prendere una perdita, un lutto? Se muore... Il padrone, per esempio, sì. Come si potrebbe aiutarlo? Beh, è come nel caso di un abbandono, no? L'animale soffre la perdita. E che tipo di reazione pensi che potrebbe avere? Volete sedervi? Sì, sì. No, 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 non c'è bisogno, era solo questo. Beh, può essere... Può essere che sia un po' assente, che presenti delle reazioni psicosomatiche, tipo problemi di digestione, una certa irritabilità nel comportamento. Io sto cercando una famiglia che adotti Truman. Che ne pensi? Come potrebbe essere? Mi oriento su un modello come il mio, ossia un uomo solo? O lo cambio completamente? Una famiglia con bambini, cose così? Nessuno c'è much for4S E un uomo? Paranza anche quindi se si cuore un behead. E un uomo solo? No! No!